Quando ti sveglierai, dottor Alan, grida pure quanto vuoi. Non si esce vivi dalla tomba. Qui è Kitty Potter. Domani è il primo giorno delle collezioni del Fredda Portet. Giornalisti, modelli, stilisti, semplici curiosi. Ce n'è per tutti nella più corrosiva satira sul mondo della moda. Per i bellissimi, dal genio di Robert Altman, tra grandi attori e personaggi che recitano se stessi, Fredda Portet. Domani sera alle 22.40 su Rete4. Occasione straordinaria. Chi? I protagonisti al naturale. E donna moderna. Una come te, insieme in edicola al prezzo speciale di 3.500 lire. Solo questa settimana. Non bevevo Jägermeister. Perché? Non so perché. Jägermeister. C'è sempre un perché. Un grande evento cinematografico dedicato all'amore. Una collezione mai realizzata prima. Film d'amore. In edicola il primo fascicolo e il primo film via col vento a sole 7.900 lire. De Agostini. Vernel lancia Soft & Deasy e stirare diventa più facile. Facile? Sì, il nuovo Soft & Deasy distende le fibre durante il lavaggio e quindi ci sono meno pieghe. Provi con queste camicie di cotone. Difficile. E ora con nuovo Vernel Soft & Deasy. Wow, così è facile. Un sogno. Nuovo Vernel Soft & Deasy. Stirare non è mai stato così facile. Valle Verde. Fornitore ufficiale della scuderia Ferrari. Carnevale di 100 Ferrara. 100% di divertimento. Baltor. Tecnologie per il clima. Basta sentirti in balia del computer. E in edicola computer idea. La prima rivista che ogni 15 giorni ti fa conoscere a fondo il tuo computer in modo semplice, pratico e tutto in italiano. In edicola a sole mille lire. Computer idea ti segue passo a passo. Abbandonatevi alla scioglievolezza di Lindor. Scoprirete un piacere che arriva dritto al cuore. Lindor di Lindt. L'arte svizzera del cioccolato dal 1845. Oggi c'è lì c'è nuovi gesti. Per struccare, tonificare, idratare viso e occhi in un solo gesto. Spaziale. Lì c'è nuovi gesti. Per le nuove donne. Gli spilli, Maria. Sono quasi la coincidessa. Io quasi mi commuovo già. Anna, ci sei? Che ci fai qui? La smosa non si deve vedere prima. Cos'è? Buona però, eh? Buona e bella. No, ma la zuppa. Eh sì, sì. La zuppa. Orzo e farro uniti con sapienza. Per una zuppa densa, cremosa e buona. Si è ricordato del bouquet? Sì, sì. Mi raccomando il bouquet. Zuppa del casale Filbus. Buona come vuole la tradizione. C'è qualcosa di nuovo che bolle in edicola. Tè e tisane. Un'opera in fascicoli per scoprire la storia di una tradizione millenaria e l'arte di un rito quotidiano. E in ogni uscita una raffinata scatola da collezionare. Con il primo numero, un elegante scatola ed una bustina di tè twining a solo 1900 lire. Tè e tisane d'Agostini. Il gusto del sapere. Se esiste una musica che ti fa rinascere, è sicuramente la disco. Allora che cosa succede quando metti insieme cento canzoni in un'unica enorme compilation? Cento dei più grandi successi disco del mondo. Un'insuperabile compilation di mega hits originali su sei cd o su cassetta. Per quasi sei ore di ascolto e si chiama 20th century disco. E' come se avessero riunito tutte le serate più divertenti che hai mai vissuto. Ma non puoi comprare 20th century disco nei negozi. Devi ordinarla per telefono. Telefono subito per avere la tua copia. Alla Inside abbiamo grande orecchio per grande musica. Panorama presenta L'uomo che sussurrava ai cavalli Con un grande Robert Redford Una prima visione solo con panorama. Robert De Niro Quanto c'è da farci? Oltre i 12 milioni di dollari. Ci sto. Al Pacino Quando tenteranno di fare il colpo, quelli avranno la più bella sorpresa della loro vita. Sono simili. Sono schierati su fronti opposti. Sparano per quello in cui credono. Se mi troverò a scegliere fra te E un poveraccio che per colpo tuo rischia di lasciare una vedova Scelgo te. Hit. La sfida. Domani sera 20.45 Italia 1